Giuseppe Paolini, presidente della provincia di Pesaro Urbino, nonché sindaco d'Isola del Piano, grida lo scandalo di fronte allo stallo di indifferenza che circonda la fattoria della legalità. Un bene confiscato alla mafia che attende da anni un finanziamento promesso fin dalla giunta regionale di Ceriscioli e tolto dall'agenda delle erogazioni della successiva giunta a Quaroli. Dopo richieste di incontri e reiterati tirai molla, il consiglio regionale dello scorso martedì è stato per Paolini la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Io credo che sia abbastanza grave quello che è successo ieri in consiglio regionale e credo che sia scandalosa la risposta che ha dato l'assessore Saltamartini. Un finanziamento che viene dato dalla giunta di Luca Ceriscioli di 240 mila euro viene immediatamente cassato, cancellato dalla giunta attualmente in carica. Era un finanziamento di 240 mila euro che a noi serviva per ristrutturare l'immobile, un immobile che da dieci anni lavora nella sensibilizzazione con le scuole e con i giovani sulla legalità. Abbiamo avuto parecchi campi di estate liberi, abbiamo avuto dei campi dello SPCGL e avremo un campo anche quest'estate, dove proprio questo problema sarà al centro degli incontri che faremo. L'indifferenza assoluta di una regione che taglia i finanziamenti mi vengono ripromessi dal Presidente Acquaroli ogni anno. Dicevo stai tranquillo Presidente, li rimettiamo, li rimettiamo. Sono passati quattro anni e quello che ha detto ieri Salta Martini è semplicemente scandaloso che le associazioni debbono farsi carico di cosa? Fanno già volontariato, ci mettono ore, ci mettono anche denari improprio di ristrutturare un bene, quanto questo bene non è solo, era un bene confiscato alla criminalità organizzata, segnata al Comune di Israele Piano, ma non è solo del Comune di Israele Piano, questo qua è di tutta la gente che lotta contro la mafia. Paolini sostiene anche che si è trapelato dal Consiglio regionale che la sua appartenenza politica di centro-sinistra non agevoli questo finanziamento. Perché la legalità non è né di destra né di sinistra, è trasversale, però quello che sta dimostrando la regione è l'indifferenza, il menefreghismo e questo dovrebbero semplicemente avvergognarsi. È l'unica regione che ha messo zero euro di finanziamenti sui beni confiscati, zero euro di finanziamento a differenza di milioni che hanno messo altre regioni. Io dico solo una cosa, essendo da anni uno che lotta contro la mafia, che fa parte di associazioni che lottano contro la mafia, dico solo vergognatevi, dovete semplicemente vergognarvi, in modo particolare l'assessore Salta Martini.